Gentili telespettatori, buona giornata. Difficile a crederci, ma è successo di nuovo. Salvini va da Berlusconi ad Arcore, ovviamente per mettersi d'accordo per le amministrative, per le loro idee di fusione di partiti, per organizzare il centrodestra, ma non hanno invitato il capo del centrodestra. Giorgia Meloni è il primo partito in Italia, se la contende con il PD. Primo partito in Italia, primo partito del centrodestra, è di fatto la leader del centrodestra, ma i due ometti complottano alle sue spalle. Realmente è una situazione veramente triste, ve lo devo dire, veramente veramente triste. Giorgia Meloni si trova in una situazione incredibile. Un centrodestra distrutto dall'invidia dei due politici a capo degli altri partiti, che stanno da mesi e mesi complottando per capire come fermare, ostacolare, fare sgambetti a Giorgia Meloni. A questo punto credo che realmente il centrodestra non esista. Capisco anche la delusione di Giorgia Meloni nel dire che ha un passo dal poter governare l'Italia, ha un passo. Il centrodestra unito ha oltre il 10% in più della sinistra. In caso di elezioni un centrodestra, come si deve, vincerebbe le elezioni. Dove c'è un leader, presidente del Consiglio a Giorgia Meloni, Salvini come secondo partito, lui può fare il vice premier, è ministro di qualcosa, di quello che vuole. Naturalmente questo in un contesto di serenità, dove ognuno è consono del ruolo che ha. C'è chi è primo partito, chi è secondo, chi è terzo. Naturalmente chi è primo partito, diventa anche premier, ha ovviamente un peso politico notevolmente maggiore. Ma questo è il gioco delle parti. Non si può pensare di sentirsi e atteggiarsi sempre come il primo della classe quando non lo si è. O quando lo si è stato e non lo si è più. Così Salvini incontra Berlusconi ad Arcore e la Meloni non c'è. Da Fratelli d'Italia il commento è netto. Di governo discutano pure, dice Giorgia Meloni, ma in tema di amministrative nessuno si illuda di ignorarci o di organizzare vertici senza prima esserci chiariti. Attenzione, non sta dicendo senza prima esserci parlati, sta dicendo senza prima esserci chiariti. Quel chiariti vuol dire che Salvini gli deve ancora spiegare cosa ha combinato col Presidente della Repubblica. Ma il capitano coraggioso, dal giorno prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, quando ha detto a Giorgia Meloni Whatsapp, non so come, sei in ufficio, sì, salgo da te, da quel momento in poi è sparito perché ha ricevuto la telefonata, non lo so, di letto, è corso, letteralmente corso dai leader della sinistra riuniti per mettersi d'accordo e fare rieleggere quello che la sinistra aveva fatto eleggere sette anni prima. Da lì in poi è sparito e da lì in poi ha continuato a complottare alle spalle di Giorgia Meloni. Vedete che quello che vi sto raccontando è un quadro desolante, un quadro cupo, oscuro, gotico. E in questo gioco, purtroppo, in questo gioco di invidia ci rimette tutto il centrodestra e ci rimettono tutti gli elettori di centrodestra perché in questo modo come fanno ad andare a governare? Salvini prima delle elezioni farà finta di ritrovare un accordo con Giorgia Meloni, poi faranno ancora le fotografie dove si abbracciano i selfie, ma al momento di governare Giorgia Meloni si troverà in una grandissima difficoltà con due persone come Berlusconi e Salvini. Saranno loro il vero problema per Giorgia Meloni? Uovo di Pasqua e Colombra, grandi abbracci e sorrisi. Salvini, ieri pomeriggio ho incontrato Silvio ad Arcore. Eppure le ghisti azzurri hanno versioni del faccia a faccia non esattamente soprapponibili. Senza contare che la leader di Fratelli d'Italia non c'era. Del resto con gli altri partner di coalizioni il dialogo non è proprio serrato. Di vertice al momento non se ne parla. Non mi pare che sia calendarizzato, ha detto Giorgia Meloni a margine dell'incontro sull'agricoltura organizzato dal partito. Dice in ogni caso, aggiunge, io sono sempre disponibile a parlare di tutto. Ho chiesto chiarezza e sono sempre disposta a farlo con tutti. Giorgia Meloni chiede chiarezza. Dall'altra parte c'è invidia e rancore. Per fare chiarezza bisogna essere non da soli, anche la controparte deve voler fare chiarezza. Se tu sei limpido e vuoi che anche dall'altra parte siano limpidi, devono esserlo. Ma se tu dici, io sono qua, facciamo chiarezza. Ma dall'altra parte c'è invidia, rancore, competizione, complotto. Non si va da nessuna parte. Da Fratelli d'Italia il commento è netto, come vi dicevo. Di governo discutano pure, ma in tema di amministrative nessuno si illude di ignorarci o di organizzare vertici senza prima esserci chiariti. Ma le narrazioni di questo pomeriggio sono diverse. Gli interlocutori avrebbero ribadito la necessità del massimo sostegno al governo Draghi. Poi hanno parlato della riforma della giustizia. Dice così la riforma non va, avrebbero detto i due leader, la miglioreremo in Parlamento. I due avrebbero poi concordato sul fatto che sia pericoloso parlare di difesa, spese. Dice d'accordo sull'aumento delle spese militari make-out sulle loro destinazioni a paesi terzi. Ma il tema che più divide è arrivato dopo quasi un'ora di incontro, cioè le sorti future del centrodestra. Salvini ha detto all'ex premier di credere molto a Prima l'Italia, la lista che intende presentare in Sicilia. È un nermo scoperto anche dentro la Lega, la possibilità di accantonare il simbolo storico con l'Albertino da Giussano. È un sacrilegio per i leghisti. Ma anche Silvio ha sorriso e soprattutto ascoltato. E gli azzurri in Sicilia hanno ancora un significativo bacino elettorale. Giurano. Non ci riguarda per il momento. Io vi ringrazio per il momento e ci vediamo tra una ventina di minuti per raccontarvi un'altra cosa su questo incontro molto ma molto importante. I due sono preoccupati. A presto. Arrivederci a tutti.